Se ti piacciono i video emotivi di animali, ti trovi nel posto giusto. In questo video di Animalpedia ti mostriamo il primo incontro tra Boone e il suo nuovo fratellino. È probabilmente la cosa più carina che vedrai oggi. Boone, il Golden Retriever di questa famiglia, ha avuto una reazione davvero adorabile nel vedere il suo fratellino per la prima volta. I suoi umani, Austin e Kelsey Woods, sono tornati dall'ospedale nella loro casa di Grand Forks, in North Dakota, con il loro figlio appena nato il 27 dicembre. E questo è quello che è successo. Dal primo momento, Boone non riesce a smettere di annusare il bambino mentre scodinzola intensamente. È così entusiasta di conoscere il suo nuovo fratellino che inizia ad avvicinare i suoi giocattoli per mostrarglieli. Boone è emozionatissimo e durante il video vediamo come non smette di scodinzolare mentre osserva attentamente il bambino. Buon appetito! Buon appetito! Ciao! Non è la cosa più adorabile del mondo? Senza dubbio, un cane ben addestrato e socializzato può diventare il miglior amico e guardiano di un nuovo membro della famiglia. Dicci, e tu, cosa ne pensi di questa storia? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!